Questo è un mini PC da gaming, o almeno così come venduto e come c'è scritto qua. È basato su un processore Ryzen 5, il modello 5600U. Potete trovare questo processore all'interno di mini PC come questo o anche di notebook. Quindi in questo video che cosa faccio? Vi racconto che cosa ci si può aspettare da questo mini PC, ma ovviamente vale anche in tutte le altre condizioni dove alla base dell'hardware avete quest'app. La domanda è, ha senso chiamarlo PC da gaming? Prima di continuare vi ricordo che se troverete in qualche maniera utile questo video, iscriversi e lasciare un mi piace è molto utile per l'algoritmo di YouTube. Mi supporterete e permetterete di portare questa informazione a molte altre persone. Grazie. Diamo un'occhiata nello specifico a questo modello, ma devo dire che più o meno si trova la stessa configurazione anche in molti altri mini PC. Questo ha una forma un po' tamarra, diciamo così, LED RGB, tutti nella parte qua inferiore, e questa manopola che permette di selezionare tre modalità. Cosa fanno queste tre modalità? In realtà non è chiarissimo, cioè mi hanno detto che, ed è anche scritto che in base a dove la impostate, quindi su silent, out o performance, cambia il profilo di dissipazione della ventola, quindi gira più o meno veloce, e cambia anche l'impostazione dei consumi massimi del processore. Tuttavia io ho fatto i vari test e questi consumi sono praticamente gli stessi, e anche la ventola non è che cambia molto. In ogni caso, comunque, beh, c'è questa funzione. Magari sotto carico elevato si può vedere qualche differenza, ma nella maggior parte dei casi non si vedrà. Nella parte qui anteriore abbiamo jack audio, due porti USB 3.0, una porta Type-C, altre due porti USB per un totale di quattro, HDMI, DisplayPort, negli ultimi standard, Ethernet e il connettore per l'alimentazione. Ha una dotazione più che sufficiente per oggi, per la maggior parte delle persone. Ci sono mini PC con qualcosa in più, magari una seconda USB-C, comunque io penso che per la maggior parte delle persone già questa dotazione andrà più che bene. Il Ryzen 5 5600U è un'app composta da una parte processore classica, diciamo, con 6 core, 12 thread, e in questo caso impostata con un TDP massimo di 15 watt. Chiaramente una parte grafica integrata, Radeon, con 7 unità processuali. È praticamente poco più veloce rispetto alla CPU presente all'interno della console portatile Aya Neo Air, di cui ho fatto il video qualche settimana fa, magari non so se l'avete visto, lo trovate sul mio canale. Ecco, il resto della dotazione hardware è composta da 16 GB di memoria RAM e un disco SSD, in questo caso un SSD VMI da 512 GB, cosa interessante perché comunque non è un cap alla velocità di trasferimento dati, come succede su altri sistemi del genere integrati. Il processore, come indicato dalla sigla e dal TDP ridotto, è un modello a basso consumo energetico, che in questo caso è stato implementato principalmente per una questione di dissipazione termica, silenziosità e alimentazione. Inserire in un formato del genere, ridotto, grosso come una mano, un processore con un TDP superiore, avrebbe portato chiaramente a temperature difficili da gestire e rumorosità elevata, quindi un sistema compatto non può consumare come un sistema desktop normale. Non sto nemmeno a dirlo, ovviamente con questo piccolo PC, con questo processore, questa configurazione, si riesce a fare tutte le attività di internet, ufficio, visioni di video, musica, anche applicazioni di ufficio con file un po' complessi, non sono un problema, anche perché, come accennavo, la parte di archiviazione è abbastanza veloce da non diventare mai un collo di bottiglia, cosa che alle volte accade con prodotti di questo genere. Quindi non perdiamo tempo su questa parte e passiamo subito a vedere come vanno i giochi, perché viene chiamato gaming PC, quindi vediamo i giochi. Io ho provato un mix di titoli, senza una particolare logica, in realtà, devo essere sincero, ho fatto un mix di giochi più o meno complessi. Vediamo come è andata. Iniziamo con Destiny 2, in questo caso è possibile giocare in Full HD, solo a dettagli bassi, e starete attorno ai 30 fps. Per andare oltre questo valore, dovrete per forza abbassare la risoluzione, a 720p, e stare su dettagli medi, se vorrete appunto stare attorno ai 45 fps, diciamo tra i 30 e i 60 fps in base alla situazione. Potete anche spingervi su dettagli alti, ma in diverse situazioni dettagli alti, ecco, possono iniziare a diventare un problema. Per me, un gioco del genere, su una piattaforma di questo tipo, non è il massimo, e sinceramente non lo consiglierei, perché si perde molto, e poi serve più velocità con un gioco del genere. Anche con Doom, è necessario passare a 720p, se vorrete giocare, senza dover mettere i dettagli al minimo, e come dirà, questa risoluzione, potete stare attorno ai 30 fps, anche a dettagli alti, con qualche drop, qualche calo di frame, qua e là. Probabilmente i dettagli medi, sono forse giusto e compromesso, vi permettono di stare sopra i 30 fps, nella maggior parte delle situazioni. E anche con Apex, Apex, e come si dice, non lo so, i 1080p sono un po' stretti, soprattutto perché, in un gioco del genere, la fluidità chiaramente fa la differenza. Per avere almeno 60 fps, dovete stare sulla risoluzione 720p, a impostazioni di dettaglio, tra il medio e il basso, e chiaramente, vista la natura competitiva del gioco, è difficile consigliare un mini PC del genere. Counter Strike, è un gioco decisamente più leggero, ma neanche troppo in realtà, ma anche qua, appunto, in 1080p, il full HD come risoluzione, non è fuori discussione. A questa risoluzione, vi ritroverete tra i 40 e i 60 fps, in base al livello qualitativo che utilizzerete. Passando invece a 720p, è invece possibile stare sui 60 e oltre, anche dettagli alti. È realisticamente più semplice, più giusto pensare, di abbassare chiaramente i dettagli, per avere un frame rate più alto e più stabile, anche perché è un gioco competitivo. God of War è utilizzabile a 720p, con impostazioni qualitative medio-basse a circa 30 fps. Per un gioco di questo genere, probabilmente è sufficiente, anche se ovviamente è molto tirato, dato che in alcuni combattimenti ci saranno cali di frame rate occasionali. Con Death Stranding, a 1080p e impostazioni qualitative basse, finirete sempre attorno ai 20 fps. Per avere almeno una trentina di fps o poco più, dovrete usare anche qui una risoluzione 720p con dettagli minimi. Ok, dai, basta con i test, almeno basta a farveli vedere. In realtà io ne ho provato altri giochi, Formula 1, LOL, Tomb Raider, insomma, in ogni caso, ho ritrovato sempre lo stesso trend, cioè con giochi AAA, l'unico modo di usarli è impostare la risoluzione 720p 720p e dettagli medi o bassi, che realisticamente, come dire, non sono proprio un bel federe per alcuni giochi. Con giochi meno impegnativi, passerete da una risoluzione 720p con dettagli medi, medi e alti, a una risoluzione 1080p con dettagli bassi. E in quest'ultimo caso, avrete ovviamente sempre meno fps rispetto alla risoluzione 720p. Quindi oggi facciamo questa domanda, vale la pena spendere 5-600 euro per un mini PC di questo tipo, per utilizzarlo principalmente come una macchina da gioco? Se volete giocare ai giochi moderni, no, secondo me no. Bisogna veramente fare tante rinunce, sia in termini di risoluzione, in termini di qualità, e non è un bel giocare. Insomma, per questo costo, per questi soldi, prendetevi una Xbox, che è meglio, e spendete pure meno. Per giocare a giochi competitivi, non va bene ugualmente, perché in quel caso riuscirete a generare certamente più fps, e solitamente si gioca con bassi impostazioni qualitative e risoluzione, ma salete sempre all'intorno dei 60 fps, che magari, per la maggior parte dei giochi competitivi, non è proprio il massimo. Va bene per giochi vecchi, 5, 6, 7, 8 anni, e anche più vecchi, giochi di poco impegnativi, o retro gaming. In questi casi, cambia ovviamente molto da gioco a gioco, ma nella maggior parte dei casi, riuscirete a usare la risoluzione 720p, con dettagli alti, o la risoluzione 1080p, con dettagli medi, a volte anche dettagli alti, con una quantità di fps decente. Facciamola breve. Con 500 euro, non riusciamo, oggi, a comprare un pc, fatto di vari componenti, un pc classico, migliore. Schede grafiche di fascia bassa, non si trovano a meno di 100 euro, che è quello che ci si può permettere, appunto, per un budget di questo genere. Non offrono prestazioni in più, rispetto a quello che può offrire questa APU. Certo, possono esserci delle differenze, da un gioco all'altro, ma non pensate di, come dire, riuscire a fare una grande differenza. Quindi, cari videogiocatori, dovreste prendere questo pc da gaming, ha senso che si chiami così, come è scritto qui? Beh, sto fatica a rispondere a questa domanda. Diciamo che, se siete veri videogiocatori, la risposta è no. Se avete questo budget, e volete veramente giocare, la risposta è una, pc, due, due parole, pc usato. Con 500 euro, si prende una configurazione decente, che permette di giocare meglio, rispetto a quello che si fa con, questo mini pc, o con quello che si può avere, se si acquista con quei soldi, un pc nuovo. E ovviamente, con quei soldi, si compra anche una, console da gioco, non tutte, ma un xbox base, si prende. Se invece cercate, principalmente un pc, con cui lavorare, anche bene, e ogni tanto così, volete giocare, soprattutto a titoli poco impegnativi, allora, in quel caso si, potreste considerarlo. Rispetto, un modello meno costoso, cioè, rispetto ai vari mini pc, attorno ai 300 euro, qui avete sicuramente, un po' più di spazio di manovra, sia con le attività professionali, sia con i giochi. Tuttavia, non pensiate di approdare a un altro mondo, è un po' come la differenza che si ha tra un notebook da 300 e uno da 500 euro. Certo, quello da 500 euro offre un po' di più, ma non cambia radicalmente la vita. Amici, vi ringrazio per avermi seguito in questo video, se avete domande su questo mini pc, o in generale, no, su questo mondo, potete farle qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!